Oggi è il 3 di gennaio 2012, come sempre il filmato giornaliero di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Oggi è giornata un po' più fresca, c'è un po' di vento, ci troviamo a San Marco Argentano con una panoramica del campo sportivo, di uno dei quartieri più antichi di San Marco. Siamo in attesa dal medico per pulire le orecchie dai tappi, che noi che lavoriamo abbiamo spesso problemi con i nostri padiglioni auricolari e quando si viene dal medico bisogna aspettare sempre mezz'ora, tre quarti d'ora, come sempre, più o meno i tempi sono quelli. Siamo qui da mezzogiorno a meno un quarto, a mezzogiorno a 35 e ancora siamo in trepida appesa. Adesso c'erano due persone davanti, dobbiamo attendere che il medico finisca con quelle persone e poi passeremo all'azione. Adesso sono usciti anche i ragazzi delle scuole, qua dietro c'è il centro, la ragioneria, con il geometro, mi pare che pure il liceo sia accorpato qua dietro. Ci sono ancora un paio di persone davanti e poi entreremo a fare questa pulizia ai denti, scusate, alle orecchie, che io faccio circa ogni sei mesi perché purtroppo ho questo problema che poi si può ripercuotere sulla mia resa acustica quando vado in piazza a suonare. Adesso mi firmo anche così. Eccoci qua, qua le stanno salendo tutti in macchina, mentre qui c'è un'altra manovra, una macchina che sta uscendo dal medico, un signore anziano che ha preso, che non riesce a uscire, vediamo quanto impiega, e questo è lo scoop di oggi di cinghiale sterile. Ricordiamo oggi 3 di maggio 2012. Ciao! 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 Grazie a tutti.